Buone vacanze a tutti, per le famiglie che hanno bimbi piccoli anche in 2018-19 avranno nidi gratis e questo è il regalo di Regione Lombardia perché una società che si vuole sviluppare parte dall'aiuto per chi vuole mettere su famiglia e siccome gli asili nido costano anche 6-700 euro al mese, noi vedremo questo bonus andate sul sito di Regione Lombardia per avere tutte le informazioni